E' partita lo scorso 15 settembre la 41esima edizione dei weekend gastronomici d'autunno. Una rassegna il cui successo è confermato dalla sua longevità, organizzata da Confcommercio Marche Nord per portare nei ristoranti dell'entroterra i sapori tipici del territorio a prezzo calmirato. Sono 44 i ristoranti della provincia che hanno aderito in questa edizione 2024, alternandosi in ogni fine settimana d'autunno nel proporre le loro tipicità. La scorsa domenica 6 ottobre siamo andati a conoscere la gustosa proposta culinaria del ristorante Piccolo Mondo di Monbaroccio. Proponiamo l'iniziativa del weekend gastronomico aderente alla Confcommercio di Pesaro e Urbino, la 41esima edizione che praticamente ci dà lustro alle nostre colline, borghe e territori per proporre un menù particolare tipico per questa bellissima iniziativa composto da crostino misto con formaggio e tartufo nero, un'insalatina autunnale e un tortino di polenta con tartufo nero. Poi a seguire con un risottino ai funghi di bosco, mantecato espresso, e un passatello con la fonduta di formaggi e sempre tartufo nero estivo. Il passatello che è un piatto molto tipico più della provincia di Pesaro e Urbino, quindi in questo contesto siamo ai Garden Piccolo Mondo a Monbaroccio, lo ritroviamo innovato con asciutto, con questa bella fonduta di formaggi con la casciotta d'Urbino e altri formaggi, fatto appositamente per questa giornata. Poi un filetto di maiale con una salsa pericordina, che sarebbe una salsa con vino rosso e tartufo sempre estivo, nero praticamente, e con un po' di demi-glace, con una legatura molto cremosa praticamente, abbinato con le bietoline sempre del nostro orto, saltate in padella con aglio e olio. Per finire, un tortino di cioccolato, il cuore morbido, con una salsa di pere angelica di serungherina e vino rosso. Il tutto, questo può essere diciamo abbinato con i vini sempre del territorio, il bianchello del Metauro, in questo caso mettiamo l'azienda agricola, il conventino, e sempre il rosso, San Giovese, il pirone del conventino biologico. Consigliamo questo qua perlomeno, ok? Abbiamo temporeggiato per fare il weekend gastronomico, abbiamo allungato praticamente il tempo, perché tutto quest'estate siamo stati qua al Piccolo Mondo Garden, dove con tutto il sole che abbiamo avuto quest'anno, fortunatamente avevamo delle piante all'ombra, piscina, giardini e anche altro, e quindi adesso che sta per metà ottobre, avremo il trasferimento da eGarden al Piccolo Mondo Ristorante Invernale, lo chiamiamo ormai, e quindi da quest'altra settimana saremmo al Piccolo Mondo Ristorante Storico praticamente.